Non date ascolto a Treasure, non date ascolto a me del passato Aspettate che accendiamo la luce, la luce perché non si vedeva niente più Traduzione perché non si vedeva niente più Comunque volevo, non faremo tutta la reaction perché dura 6 minuti e 21 E poi il video, quanto lo faremo comunque? Ah e volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri a Lulline Per la festa delle donne un po' di tardo Perché oggi, il giorno che stiamo registrando è lunedì Però ieri è stata la festa della donna e noi questo video lo caricheremo di domenica Invece oggi è il 9 marzo, voi sapete che santo è il 9 marzo? Infatti, vi aspettiamo nei commenti per vedere se sapete che santo è Penso che già avete capito Però, vabbè, penso che lo sapete, penso che avete un'amica di nome di questo santo Non direi niente Allora ragazzi, continuiamo con la reaction Un bacino e un abbraccio Un abbraccio Dio ragazzi, prendetevi gli amplifon, vado a prenderli Che poi veramente ci metteva un sacco a salutare Sì, perché? Ciao 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 Da 3, sì Da 4 Da 3 Mamma mia, mamma mia, andate conto che voce avevi Si è caduta anche Luigi Dove sta il tuo amico Black? Che non so, quello stupido Ma poi come tornerete a casa? Non lo so Ah comunque ragazzi, vi devo dare uno spoiler Luigi Ah, tra poco uscirà di nuovo il continuo della serie di Anna Stregami Non vi preoccupate, Luigi sta molto bene Molto Vi assicuro che in questo video nessuno delle LOL È stato maltrattato Nessun Luigi è stato maltrattato E niente, vabbè Saltiamo questi 24 secondi di saluti Perché sarebbero i saluti delle LOL da parte di Cleo Da parte di Dusk Da parte di tutti Vabbè Volevamo dirvi che Vi ringraziamo per i 24 iscritti Ci avviciniamo sempre di più ai 30 iscritti E vi dico la cosa Ai 30 iscritti faremo il Draw My Life Sì, ai 30 iscritti Sì, sì Se ci arriveremo No, non ti preoccupate Sono sicura che ci arriveremo Prima ero io quella lì che non ci credevo Invece adesso credo in me Credo in voi Credo in noi In tutto quello che stiamo arrivando Oppure se questo video Che è il più possibile Arriva a 10 like È improbabile Però vabbè Cioè 8 mesi per fare 7 like Non si arricchierà mai Vabbè che Cioè Noi non pretendiamo tanto Se non facciamo 10 like Noi ci spariamo Per dire Però Almeno faremo il Draw My Life Se lo volete Perché Poi Lo facciamo E nessuno se lo guarda Ovviamente Volevamo salutare Gli iscritti I nuovi Il numero 22 23 24 Per noi non siete numeri Però se riuscite Commentate qui sotto E noi vi lasciamo un codicino Più un commento di benvenuto E poi nel prossimo video Vi saluteremo Sì Vi saluteremo E niente Come se vi ricordate Gli iscritti vecchi Che Ho una tesorina Cioè Una lollina Abbiamo salutato Nel video Mi ricordo Però di quel video Faremo una reaction Una passione volta Sì No Mi ricordo che era Abbiamo organizzato Un incontro Cioè Sei venuta a casa mia Ti ricordi Abbiamo realizzato Il video Scusateci Video con sorpresa E poi Era il primo video Che abbiamo girato Insieme a Martina E quindi Fateci sapere Se volete la reazione E poi il video Che hai detto tu Dove abbiamo salutato La lollina Non è stato quello È stato L'abbiamo registrato Subito dopo Sì È giusto Sì E niente Noi vi mandiamo un bacione Ci siamo dilungate troppo Infatti Dovremmo Tagliuzzare un po' E niente Ci vediamo Al prossimo video Che sarebbe Venerdì Con una nuova fiaba Noi vi vogliamo bene Vi mandiamo Un bacione Un abbraccio Sì E tenete puntate le sveglie Per Per venerdì Che ci sarà Una nuova fiaba E vi dico già il nome Un chiusurino Per Max Ma Che ne so Black Vabbè Ciao Ciao ragazzi Noi vi vogliamo bene E ci vediamo Al prossimo video Un bacione Un abbraccio Ragazzi Ciao Ciao Ciao